buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 25 maggio 2022 una giornata ancora calda vediamo poi le previsioni del tempo ma intanto oggi cominciamo la nostra rassegna stampa con un'occhiata ai giornali sul resto del carlino il corriere adriatico per quanto riguarda il santo del giorno vediamo che oggi si festeggiano diversi santi il calendario ci propone papa giovanni primo ma anche san veda due personaggi ovviamente e la cui vita è da approfondire invece per quanto riguarda le condizioni atmosferiche vediamo che il tempo si mantiene stabile su tutta la regione asciutto con i cieli sereni o leggermente affuscati da nube in alto sono in transito queste nubi non provocheranno alcun problema il clima è prettamente estivo le massime come ieri sui 30 31 gradi un caldo affoso molto assolato specialmente nelle ore centrali della giornata i venti ispireranno sulle coste da una direzione da ovest mentre nell'interno o una tensione debole da est nord est oggi apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano dove vediamo una intervista all'assessore regionale stefano aguzzi ex sindaco di fano si è parlato nei giorni scorsi di una probabile candidatura di aguzzi a sindaco di fano nella prossima tornata amministrativa quando il sindaco seri non potrà essere rieletto perché avrà compiuto due tornate amministrative ebbene aguzzi non disdegna questa ipotesi se ci saranno determinate condizioni ha detto si ripresenterò la mia candidatura perché perché non c'è nulla di più bello per chi pratica per chi ama la politica di fare il sindaco il sindaco è colui che sta più a contatto con la gente che mette la sua faccia che cerca di risolvere i problemi pratici più che le grandi strategie di carattere politico insomma i problemi poi se ci riesce non ci riesce è questione di tempi è questione di personalità è questione anche di sensibilità ebbene però lui ci riprova vediamo il titolo il centrodestra ha le carte per vincere dice a guzzi per le prossime elezioni io sindaco e beh non mi tiro certo indietro a guzzi è pronto alla sfida per chi ama la politica fare il primo cittadino è la cosa più bella che c'è ha dichiarato e ieri si svolta una significativa cerimonia al teatro della fortuna lo vediamo qui in questo articolo di fondo pagina un patto tra i carnevali storici per la candidatura unesco parte appunto dalla nostra città da fano il percorso per ottenere il carnevale per per ottenere al carnevale diciamo meglio l'imprimatur dell'unesco quale patrimonio culturale immateriale della umanità ebbene ieri al teatro della fortuna si sono presentati gli amministratori di nove comuni compreso appunto quello di fano che hanno firmato un protocollo è l'inizio di un percorso un percorso lungo che durerà probabilmente alcuni anni secondo l'esperienza di chi ha già camminato su questo percorso ma comunque che dovrebbe portare al riconoscimento internazionale di questo patrimonio di tradizioni di storia di cultura che ogni comune coltiva in sé e fa esplodere manifesta durante le manifestazioni carnevalesche chi sono questi comuni i comuni sono vediamo un attimo ieri c'erano molti assessori e molti sindaci che hanno firmato il documento si è partito dal comune di acireale e poi il comune diavola e ancora il sindaco di foiano della chiana in toscana e ancora san giovanni in persiceto e poi il comune di sciacca il comune di tempio pausania il comune di putignano sono tutti comuni in cui le tradizioni carnevalesche sono molto sentite e così ovviamente quello di fano ed è stato proiettato anche un breve filmato che condensa un po' tutte le manifestazioni che si svolgono in questi comuni e si è notato come l'arte dei carristi l'arte della cartapesta è un patrimonio veramente bello da preservare e un pregno di cultura interessante appunto dal punto culturale da preservare così come quello di fano giriamo pagina vediamo che il corriere adriatico ci informa che è stato prolungato l'incarico all'agenzia di comunicazione comunica dopo tre anni sono ancora in attesa 81 giornalisti che hanno fatto domanda che hanno presentato domanda al bando per essere appunto addetti stampa dell'amministrazione comunale per il comune di fano l'ufficio stampa interno non è decisamente una priorità appunto commenta il giornale si discute di alzheimer verde e urbano verde urbano e poi guerra sono tre appuntamenti che annuncia il corriere adriatico per oggi alle 16 e 30 nella mediateca montanare insiterà un convegno dal titolo prendiamoci cura di chi dimentica ed è un titolo significativo questo perché chi è affetto da alzheimer purtroppo disconosce anche le persone che sono attorno il morbo di alzheimer una piaga per il nostro territorio si pensa che siano oltre mille gli affetti di questa malattia a livello comprensoriale e qui vediamo una foto di sergio schiaroli che purtroppo ha avuto la moglie affetta la moglie che è deceduta affetta da questo morbo e che uno dei testimoni al più significativi e che riesce meglio ad esprimere tutto quello che è una persona una persona che poi cura assiste le persone affette da questa malattia è un dramma che si passa da una persona all'altra quindi tutte sono costrette a vivere questa esperienza molto molto dolorosa stazione di conversione allora fermate il progetto ieri è stato presentato il comune l'elenco delle richieste degli abitanti di carrara in modo particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi compensativi che terna si presterà appunto a pagare per la realizzazione di una nuova centrale elettrica a carrara è una centrale di conversione da corrente alternata a corrente continua un caposaldo dell'adriatic link l'elettrodotto che dovrà unire marche all'abruzzo passando poi sotto il fondo marino e penetrerà appunto in mare all'altezza di metauriglia da carrara metauriglia un percorso interrato e poi sotto il mare ebbene sembra che per quanto riguarda l'elettrodotto non ci siano problemi perché il sottoterra non dovrebbe costituire problemi quello che invece provoca problemi è la centrale di conversione che è stato deciso di realizzarla ad immediato contatto con la centrale elettrica esistente danno su danno degrado su degrado problemi su problemi e i residenti di carrara ovviamente non ci stanno vogliono tutte le assicurazioni perché questo nuovo impianto non crea i problemi alla salute e non crea soprattutto anche problemi economici alla frazione perché poi c'è il degrado il depreciamento delle case insomma non pochi problemi che si riversano sulle tasche dei residenti ebbene qui vediamo la foto di paolo dei vincenzi un residente di carrara che è stato incaricato a porumpio appunto dagli abitanti di presentare il foglio con ce l'ha in mano il foglio con la petizione per avere tanti punti primo punto è quello di non realizzare la centrale però insomma questo è un pro forma perché sarà difficile che la centrale non si realizzi in realtà poi gli altri punti sono importanti soprattutto il primo quello di eliminare il fastidiosissimo rumore che mette la centrale esistente giorno e notte non si riesce a vivere di notte non si dorme di giorno il problema diventa sempre esasperante e finora terna non è riuscita ad eliminare questo problema e poi ci sono gli altri problemi che evidenzia appunto il carrarese istituto donati incetta di premi a fossombrone per la storia delle filandaie di fossombrone e le donne che hanno svolto un ruolo nella resistenza l'istituto donati ha vinto due premi nazionali ed altrettanti regionali per ricerche condotte con scrupolo come occasione di didattica viva e partecipata non una didattica fatta sui libri di storia ma una didattica vissuta perché molto molto vicina alla frazione molto molto vicina anche alle famiglie di questi studenti quindi un merito doppio per questi ragazzi che si avviano alla fine dell'anno scolastico e veniamo anche la pagina di senigallia dove vediamo che sono al via i lavori su viale anita garibaldi si incomincia dalla strada della marina in giunta si discute del progetto della pista ciclabile di mazzocca per salvare i parcheggi e la viabilità e poi vediamo che ieri si sono si sono svolti i funerali del giovane che è deceduto in un incidente stradale a casine di ostra aveva 18 anni piccolo mio in cielo volano i palloncini e l'invocazione della mamma che ha chiesto agli amici di salutare il suo figlio con il rombo dei motori quel rombo di motociclette che suo figlio tanto amava la mamma del diciottenne deceduto sabato scorso a casine di ostria in un incidente ringrazia tutti coloro che sono pervenuti appunto a rendere l'ultimo saluto al suo figlio luca e poi si parla anche della morte di limoncelli l'infermiere che lavorava che lavorava che è stato trovato trovato in una situazione molto molto drammatica ed è il fratello che esprime il suo dolore si è spenta una luce ha dichiarato ed è ancora a disposizione sarà poi l'autopsia a rivelare le cause della morte è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria il corpo di alessandro limoncelli 35enne trovato morto lunedì mattina a casa di bettolelle che divideva con il fratello andrea insomma si verrà a sapere di che cosa è deceduto questa persona veniamo ora alla pagina regionale dove si parla di una malattia che destra preoccupazioni non è il covid è un'altra cosa insomma non si riesce mai a porre fine alle epidemie che stanno investendo il nostro territorio ora si parla del vaiolo delle scimmie e qui c'è una pagina importante perché informa sulle situazioni che cos'è il vaiolo delle scimmie come si contrae come si cura e come non c'è da temere molto perché non è una malattia così facile a contrarsi come il covid insomma ci vuole un contatto molto molto più stretto vaiolo delle scimmie no agli alarmismi ma serve molta attenzione gli esperti dicono questo soprattutto il virologo menzo i soggetti più attaccabili sono gli immunodepressi ha dichiarato mentre tavio delle malattie infettive aggiunge essere prudenti rasserenare la popolazione del rico invece dell'ingegno ospedaliera sfruttiamo il pianeta ecco le conseguenze purtroppo quando si sfrutta troppo la terra si arriva a queste esasperazioni ma come riconoscere questa malattia ebbene sintomi sono febbre mal di testa dolori muscolari lombalgia stanchezza malessere generale un po come accade con il covid ma quello che distingue appunto il vaiolo delle scimmie sono le pustole sono delle vescichette che appaiono sulla pelle l'incubazione dura da una a tre settimane prima che si manifestino queste vesciche e come si trasmette si trasmette con il contatto stretto ovvero la pelle della persona infetta contro la pelle o il sangue di chi viene contagiato ma anche con l'aderenza delle mucose genitali o orali e poi con la saliva quindi anche con i rapporti sessuali giriamo la pagina e vediamo appunto il primo piano per quanto riguarda pesaro si parla dei lavori che vengono fatti in zona mare in viale trieste il format non cambia ritornerà pedonale viale trieste si anticipa al 2 giugno al 2 giugno cambia la viabilità in via sul lungomare in viale trieste e durerà fino al 4 settembre come si modifica la viabilità c'è tutta una serie appunto di informazioni che riguardano la nuova viabilità su questo articolo ve ne dico qualcuna la giunta ha dato il via libera e dal 2 giugno al 4 settembre verranno istituite le due aree pedonali di viale trieste nel tratto compreso tra viale zara via ninchi e viale marconi viale pola poi confermata l'area pedonale anche in piazza d'annunzio nella zona di levante sarà zona traffico limitata il tratto tra viale della repubblica viale zara via ninchi viale marconi viale pola viale corizia stabilita anche la ztl viale trieste nel tratto compreso tra via ninchi viale marconi e tra viale trento e viale trieste di viale dante leghieri e viale marconi in maniera sperimentale appunto dal 2 giugno al 4 settembre compresi tutti i giorni festivi quindi una viabilità completamente improntata ad una mobilità dolce insomma a quella pedonale praticamente baia sarà triathlon show con la carica di 300 atleti una competizione che si svolgerà domenica 29 maggio gli organizzatori uno spettacolo per tutti una nuova manifestazione di carattere sportivo che attirerà tanti curiosi ma anche tanti turisti e poi ancora polemiche per quanto riguarda gli esuberi degli asili nido bambini che non potranno usufruire di questo servizio la prossima estate sono certo sono circa 110 anzi sono 110 i bambini esclusi perché non c'è posto negli asili estivi di pesaro il comune tenta di fare breccia con gli asili statali il consigliere dem bellucci ha detto hanno fondi per l'apertura luglio coinvolgiamoli è un input che il consigliere dà all'amministrazione comunale oggi però si chiude la raccolta di firme delle mamme contro le esclusioni e le liste di attesa dicevo 110 bimbi esclusi dai nidi estivi oltre alla lista d'attesa con 250 famiglie per i servizi estivi dai 3 ai 6 anni insomma sono quantitativi piuttosto significativi a Fano questo non sembra che accada Tari bolletta a settembre ma ci saranno gli aumenti e questo è una notizia che non ci voleva è già stata anticipata un po' nei giorni scorsi ma sembra che sia inevitabile perché non ci può fare niente il comune non ci può fare niente l'ata è una cosa dello Stato in realtà poi questi provvedimenti cadono a pioggia piano piano sono come vasche comunicanti che poi alla fine vanno a finire nelle bollette dei consumatori Marchionni rincaro inopportuno nei tempi ma non dipende dal comune così come abbiamo detto Bellucci sulle utenze non domestiche l'incremento sarà più forte un 3 per cento per le famiglie per le utenze domestiche un 10 12 per cento per le utenze non domestiche quindi un rincarico che si riversa sulle aziende la prima scadenza della tassa dei rifiuti per i pesaresi sarà a settembre unica soluzione o spalmata in quattro rate ogni mese fino a dicembre stesso procedimento che è stato fatto l'anno scorso la tempistica è emersa ieri in commissione bilancio dove è stato illustrato tutto ciò che riguarda la tari per l'anno in corso riportato nel piano economico finanziario è certo che ci saranno aumenti confermati sia dalla maggioranza che dalla opposizione per le famiglie ci sarà un tetto massimo del 2,6 per cento di incremento secondo il vice presidente giampiero Bellucci che appartiene al partito democratico un rialzo che invece potrà essere anche più alto fino al 4 per cento in base ai componenti familiari stando a quando riferisce la presidente giuliana marconi di prima c'è pesaro certo anche l'aumento più consistente per le attività commerciali stimato al 4 per cento per Bellucci invece doppia cifra 10 per cento per Marchionni c'è anche una diversità di valutazione tra maggioranza e opposizione ovviamente l'opposizione in calza un po di più calza un po di più sull'aumento invece la maggioranza tende a alleviarlo ma poi vedremo come si tradurranno in cifre effettive questi provvedimenti e qui c'è un decesso buca con la bici sul colle san bartolo si ferma per riparare il veicolo chiama gli amici dice guardate ho bucato devo riparare la bici però dopo non si trova più e dopo tante tante ricerche lo hanno ritrovato cadavere caduto nella voragine del colle e ci è voluto l'elicottero per prelevarlo è un tragico volo di oltre 70 metri per un ciclista 61enne il corpo recuperato dai vigili del fuoco si tratta di guglielmo ricci appunto di vallefoglia è stata la famiglia non vedendolo rientrare all'ora prevista a dare l'allarme preoccupata appunto per la scomparsa del congiunto altra notizia di carattere culturale ambientale villa severi riapre a grande richiesta dopo che è stata aperta al pubblico in occasione delle giornate del fai dopo il successo delle giornate di primavera sabato prossimo è in programma un nuovo appuntamento a grande richiesta per gentile concessione della fondazione che si richiama a meuccia severi questa imprenditrice una delle prime capitane d'industria della pesaro degli anni della ricostruzione che ha voluto che questa grande villa questo grande parco fosse così destinato ad uso pubblico a visite pubbliche ebbene la fondazione che si richiama a questo personaggio ha deciso di riaprire la visita a questo oasi ambientale nel cuore nella il cuore un po in periferia comunque è sempre nella città di pesaro per tutti per tutte le famiglie bambini adulti anziani tutti potranno godere delle opere d'arte e della bellissima cornice ambientale di questo parco la regione finanzia opere per 27 milioni e di oltre 27 milioni l'importo del piano triennale dell'opera pubblica approvato dal consiglio regionale e riguarda il pesarese per 20 opere pubbliche complessive da finanziare ebbene ieri l'assessore baldelli ha annunciato dopo aver fatto la stessa cosa fanno per quanto riguarda le opere di carattere sanitario le opere strutturali e infrastrutturali di carattere sanitario ebbene ieri ha fatto a pesaro e ha annunciato quello che il piano prevede come investimento sia per pesaro che per tutta la provincia e su questo articolo vengono annunciate le opere da realizzarsi circolo della stampa orgoglio pesarese applausi a scena aperta per i premiati e ieri si sono appunto sono svolte le premiazioni del circo della stampa un appuntamento annuale di grande rilevanza per il capoluogo che premia i personaggi più significativi dell'anno e qui ne vediamo alcuni sono 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 li vedete qui sono paolo cevoli e poi sono tanti altri personaggi a cui è stato consegnato il premio vediamo di trovare qualche nome si tratta angelo fabbrini accordatore di pianoforte più famosi nomi li abbiamo detti anche nei giorni scorsi e poi abbiamo detto paolo cevoli e poi ancora due premi orgoglio pesarese allo studioso e scrittore nando cecini e poi ancora a giorgia righi giovane scrittrice insomma altri personaggi che sono poche sono evidenziati per le loro opere operatore per le macchine utensili risposta alle richieste delle aziende è un corso che viene organizzato per formare un mestiere che è molto ricercato finanziato dalla regione marche dal prossimo 13 giugno si svolgerà un corso di formazione professionale gratuito per operatore macchine utensili una delle figure sempre più richieste anche nel nostro territorio provinciale il corso si svolgerà nel punto informativo lavoro di morciola a una durata di 600 ore di cui 240 in stage le lezioni poi si svolgeranno nei laboratori del centro commerciale le 100 vetrine di morciola da lunedì al venerdì con orario dalle 14 30 alle 19 e 30 e vediamo anche la pagina di urbino dove il sigillo dell'ateneo uno dei più rilevanti riconoscimenti di tipo universitario che vengono così consegnati a livello nazionale questa volta è stato consegnato al giudice gratteri il giudice va a ruota libera mafia riforma cartabia valori imprescindibili applausi a un vero uomo di legge ebbene voglio anche segnalarvi un passo del discorso di gratteri con una dialettica che non è certamente retorica ha detto ai 500 studenti che erano davanti a lui qualcuno di voi fa uso di droga vediamo quante mani si alzano silenzio tombale facce che si guardano le une con le altre e poi riprende gratteri se nessuno dei presenti usa droghe allora in questo territorio non ci sono mafie ebbene la collusione tra droga e mafie è una dei problemi più rilevanti del nostro territorio diamo anche un'occhiata molto molto rapida al resto delle carlino vediamo la pagina di fano dove si parla del rumore insopportabile che inquina l'ambiente di carrale ma di questo abbiamo già parlato invece voglio darvi la notizia di quello che si svolgerà domenica prossima quando Viale Gramsci sarà di nuovo chiusa al traffico il centro è un campo di gioco la città invase dai bambini domenica prossima si svolge il punto centrale della città da giocare quando Viale Gramsci un viale importante dove corre la nazionale verrà totalmente chiusa le auto e ha il traffico pesante un provvedimento che crea problemi si crea problemi perché si vuole evidenziare con grande evidenza il diritto dei bambini di occupare spazi di occupare la città ed è un'iniziativa questa che ormai si ripete di anno in anno da diverso tempo ed è stato appunto ripristinato in Viale Gramsci dopo che era stata trasferita in mare dove creava meno problemi per appunto evidenziare l'importanza del desiderio dei bambini domenica su Viale Gramsci tornano laboratori attività didattiche performance per i più piccoli coinvolte molte associazioni culturali sportive scuole che proporranno le attività e in questo articolo ci sono anche diverse iniziative e vediamo anche il caso Tinti che ritorna alla ribalta ancora per quanto riguarda un convegno di carattere socio sanitario organizzato dal Partito Socialista è ancora scontro tra Partito Democratico e Partito Socialista nonostante che gli organizzatori il segretario del PSI Aldo Scalera e il coordinatore delle politiche sociali Tiziano Busca hanno ufficialmente invitato l'assessore al welfare Dimitri Tinti a partecipare a questo a questo convegno ebbene non sappiamo se Tinti parteciperà probabilmente no ma tutto il PD ancora a punto ai piedi è stato fatto uno sgarbo e noi ci asteniamo da questa partecipazione sopra ancora polemiche e poi c'è anche una polemica nuova perché ieri sera il consiglio comunale di Fano avrebbe dovuto riunirsi dopo due anni nella sede canonica quella dell'aula consigliare in realtà è mancato il numero legale quindi il consiglio comunale non si è svolto e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta a questo punto abbiamo esaurito la lettura dei giornali vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20 e 30 di questa sera con occhio alla notizia su Fano TV condotto da Simona Zonghetti questo è veramente tutto a risentirci buona giornata